Si sono rivolti al Tribunale della Riesame con la speranza della scarcerazione i due fratelli albanesi Ilmi e Clinton Rakipai in carcere con l'accusa di aver ucciso a coltellate il loro connazionale Albert Deda domenica 23 luglio in via Dorighello nel quartiere Forcellini a Padova al culmine di una violente lite scoppiata per futili motivi. I due sono accusati anche del tentato omicidio di altri due connazionali. Il loro legale farà richiesta di scarcerazione al Tribunale del Riesame sulla base del fatto che i due fratelli sono entrambi incensurati e quindi si escludono motivi legati alla malavita. Inoltre la dinamica dell'agguato ha contorni ancora poco chiari. Ilmi e Clinton erano in minoranza, si sono scontrati contro tre persone e poi chi ha portato i coltelli usati per l'aggressione sono tutti aspetti da chiarire così come il movente che pare sia riconducibile ad un'ospitalità negata dai fratelli Rakipai ad un connazionale appena arrivato a Padova. La lite è scoppiata all'interno dell'appartamento al quarto piano dove Ilmi e Clinton vivono e dove risultava residente anche la vittima Albert Deda, poi l'agguato nell'androne del condominio. I carabinieri hanno sequestrato cellulare e computer del giovane, la cui salma dovrebbe essere in questi giorni riconsegnata alla famiglia per il rimpatrio e i funerali.